Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna Ti va di cantare. Chi saranno i 12 protagonisti di questa nuova edizione? Lo scopriremo da domenica 9 ottobre alle 21 su Italia Mia, canale 17 del Digitale Terrestre e canale 936 di Sky. E potrai seguire l'avventura dei ragazzi ogni giorno su Radio Stonata. Grazie a tutti.